Ovviamente noi chiediamo non la sospensione ma l'annullamento di tutte quelle che sono le imposte, tasse, contributi eccetera perché se no veramente ci rimane non difficile ma impossibile ricominciare a lavorare così. A casa da marzo è senza aiuti dallo Stato. I centri estetici chiusi da ormai due mesi, oltre all'incasso mancato, hanno dovuto far fronte alle tante spese fisse. Anche per l'estetista infatti, così come per i parrucchieri, la riapertura dopo il blocco delle attività è ancora tutta da stabilire. Domani a Dancona sarà effettuata una simulazione del protocollo di sicurezza in due saloni della città alla presenza di Azur e Regione. Se il test verrà superato, parrucchiere ed estetiste potrebbero riaprire il 18 maggio. È stato definito infatti un documento che detta le linee guida e anticipa la riapertura rispetto a quella del primo giugno indicata dal governo. Tra le disposizioni rientra l'orario flessibile, anche serale, fino alle 21.30. Si potrà lavorare solo su appuntamento e con l'obbligo di mascherina per cliente ed estetista o parrucchiere. Il personale poi dovrà dotarsi di guanti usa e getta, mascherine e camici monouso o igienizzati ogni giorno. A questi si aggiunge la sanificazione dei locali, il distanziamento tra le postazioni di lavoro e almeno 20 minuti tra un cliente e l'altro per sanificare l'ambiente e gli strumenti. Tante saranno le misure da adottare, ma ancora, a pochi giorni dalla possibile riapertura, nessuna notizia ufficiale. Quindi chiediamo con urgenza un protocollo di lavoro per farci lavorare in sicurezza. Seconda cosa, ad oggi comunque noi non abbiamo, molte di noi non hanno ancora ricevuto le 600 euro e questo per noi, comunque per chi ha una partita IVA, la riteniamo un'offesa perché sinceramente sono veramente pochissimi soldi che non ci aiutano in niente perché le spese che dobbiamo affrontare, dovremo affrontare, sono veramente altissime. Non abbiamo avuto nessun altro tipo di sostegno, cioè veniamo considerate praticamente zero. Noi abbiamo bisogno invece di liquidità, abbiamo bisogno, chiediamo praticamente un sostegno economico a fondo perduto che ci permetta di ricominciare il nostro lavoro alla riapertura in maniera tranquilla perché comunque gli affitti abbiamo continuato a vagarli, le bollette idem, le spese che comunque abbiamo sostenuto in questi due mesi di chiusura sono state tante e tutte come se avessimo lavorato ed è assurda praticamente come cosa. E mentre si attendono aiuti e regole certe, insieme ai problemi è aumentato l'abusione. un nero che ai tempi del Covid si è mosso più indisturbato, visto che i controlli sono stati indirizzati sulle imprese per verificare le misure di sicurezza e tutelare i lavoratori. Quella che invece non è mai mancata è la solidarietà tra colleghe. Ci sono persone che veramente non avendo lavorato e non avendo un euro non sanno neanche come potersi permettere di riaprire, di acquistare semplicemente i dispositivi di sicurezza che ci saranno ovviamente imposti e che sarà giusto utilizzare, però veramente ai prezzi che abbiamo adesso tra l'altro sono folli. Però ecco ci stanno questi momenti in cui magari chi ha la possibilità aiuterà la collega che magari si troverà in difficoltà e questa è una bellissima cosa. Se domani dovesse riuscire questa simulazione, gli estetisti e in questo caso fanesi saranno pronti a riaprire il 18? Non sapremo veramente come potremmo lavorare, in che condizione, ma anche semplicemente emotiva perché insomma il nostro lavoro deve essere un lavoro bello, rilassante, dove facciamo del bene alle persone, facciamo stare bene le persone ed è brutto accoglierle come se invece fossi quasi in una struttura ospedaliera. Sì, saremo pronte sempre che troveremo tutti i dispositivi di sicurezza che ci serviranno perché tra l'altro o sono introvabili o hanno prezzi veramente esagerati. Speriamo di essere pronte più che altro di avere una certezza perché ad oggi non ne abbiamo.